Il Consorzio di Bonifica chiama a raccolta le istituzioni oristanesi per valutare i danni dovuti alle intense giornate di pioggia e vento. Domani mattina, venerdì 9 novembre, si incontreranno le associazioni agricole, i consiglieri regionali del territorio e i sindaci dei comuni colpiti. Condividiamo la convocazione di un tavolo di lavoro, afferma la Coll di Reti, ma metteremo in evidenza le numerose segnalazioni di disservizi da parte del Consorzio di Bonifica. La maggior parte riguarda la mancata o impropria pulizia dei canali. Grazie.